La mia figlia dice, segna questi numeri a mamma, segna questi numeri. Uno, l'Italia, significa evidentemente che mi ha giocato tutta l'Italia. Quattro, l'Hopwork, perché l'Hopwork sembra abbondanza, l'Hopwork non si entra niente. 28, la femmina. Piense la mogliere che la voleva perdere. 34, la capa. La capa non ha da tenere più pensiero e devi pensare anche a tutte le testa che stanno intorno a te. La meglia, la pesce che la coscia così è che la loro mamma la bella. Piense a tutto il capo. Gioca di uno, quattro, 28 e 34. Non lì a mamma, gioca forte, gioca forte. Piense a tutto il capo. Perché non è che posso riuscire ogni tanto a trovare una terra, un'acqua a terra, quello che ti sei. Una volta vengono e ti assisti a mano. Gioca di tutto quello che ti viene. Arrisi che farebbe. Perché questa volta ti salvo. Ti salvo non lì a mamma. E tu se l'hai detto a mamma? Mamma, non prendi i soldi per fare la puntata. Tale e qua, la stessa simpatia, mamma. Tale e qua, voglio capicchiai. Ma la madre stai facendo sempre più tale e qua la mamma. Tale e qua, tale e qua la mamma. Trighe bene pesante, trighe bene pesante. Che fai da tu in te sacchia? Io? Eh? Non neanche da niente. No, vieni pure, vieni pure, vieni pure che ci risolviamo. Cosa duccia. Mi trovo la bolletta del telefono. E allora, mi trovo la bolletta del telefono. Ma io cosa c'è proprio il telefono? Ma che te ne staccavano? 50 euro. Ma tu hai capito che questi 50 euro della bolletta? Io dà accanto tutta la siffa, le telecombe, dà accanto tutto quello che si può accattare. Ti faccio scaricare fuori la casa tu, i nomi, i nomi, i telefonini. Che scatti c'è la patata. Ah tu, ma tu hai fiducia in me? Come no? Bravo, bravo. E tu quanti tieni? No, a me non mi puoi cercare niente perché sennò non si mangia se mi cerchi solo a me. Non si mangia? Non si mangia più. E allora c'è l'astrazione mentre stiamo in dove di ristorante di Napoli. Ma non si mangia? Ma non ne sono ancora spesi anni. E c'è il supermercato. Un supermercato? Ma quale supermercato? Un supermercato che sta qua fuori. Come si chiama? Fontanelle? Fontanelle. E' certo che rompa l'insegne. Si chiama supermercato di Mario. Amarelli e Saladella. Più rossi. C'è un cattamento sano sano. 50 euro, 50 euro, 100 euro. Agnoto che tieni? Niente. Com'è bene niente? Niente. Che supermercato? Non c'è niente. Non c'è niente. Viene buono. Viene buono. Si scava qualcosa troppo. Si scava qualcosa troppo. E poi qualcosa si faccia troppo. Scava. Ma sono che sono dei mercini. Ma c'è cattato tutti i mercini. Ma non i mercini. Doviamo che c'è l'acqua dentro. C'è davanti con gli uccelli vintani. Ma non è il migliore busto fatti. Fatti busto. Beauty Farm. Beh, Beauty Farm. Lo faccio a scinò. Lo faccio a scinò. Veramente. Cacciate, cacciate. Cacciate. Ma lui è niente. Guarda un po', non è l'altrazione. Guarda, guarda. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda. Guarda, guarda. Guarda. Sta cacciando i cattoli. Lo capito? Ma che sta facendo? Oh, ma si vanno a fare i due uccelli, ma? Che bello. Ma non c'è. Ma non c'è la ricina di guagliore per trovare i due uccelli. Che bello, guarda. Eh sì, la viste proprio in due uccelli. Guarda, guarda. 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 E 100. 100 euro. Guarda, tu puoi cocere. Ma rettere il sito. Guarda, guarda. Guarda, guarda. Guarda, guarda. Guarda, guarda. governmentasti vogliamo 앉erciere la sorella. Sono sicuro. Sicuro? Quaterna Isêca su Napoli. Iya, vai. Trovasi voi del mere e hanno voglia la prima cosa. Menschen, mi raccomando, devo pregare, tre une preghiera per me. Wiacome, una bella preghiera per me. Deu pregate pure voi. Però quando pregate non pensate a me. Perché come mi hai pensato di cure? Però chi mi hai messo tra cuoco a gioia. Nooo, amante! Rbio Mio, ti prego, fa che vada tutto bene al mio marito. Per favore. Padre Pio, non lascio i quattro numeri, se no a me mi stanno con il telefono. Sì, sì, usciranno, usciranno. Ho sognato a mia mamma che mi ha detto, gioca di questa paterna. Gli escono tutti i quattro numeri e gli esce a sottimazzare. Eppure tu? E dici una preghiera per mio marito con tutto il cuore? Con tutto il cuore? L'eterno riposo d'ora, Dio Signore. Sprengali in una luce perpetua. Così in pace e così. Quello puoi? Adesso non mi pensi se vengono i tuoi camion. Non ciò. Ma che hai fatto morire? Oh, ma volete una casa buona? Proteggila ogni passo che dà. Fallo tornare vincitore. Fallo tornare salvo. No, no, no.